Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, qui sempre il vostro caro Michele Maraglino, cantautore, produttore discografico indipendente, ufficio stampa, dal 2016 anche formatore e consulente musicale. Se la prima volta che ti imbatti in un mio video e sei un musicista che si sta autopromuovendo, autopubblicando, dai un'occhiata a questo canale YouTube, trovi tutorial, guide, video, anche ispirazionali, si dice così, per il percorso del musicista nel 2022 ormai che deve sapersi pubblicare, quantomeno promuovere all'inizio da solo. Dai un'occhiata a tutti i video di questo canale, veramente c'è un sacco di materiale gratuito, anche tutorial passo passo e poi nella descrizione di ogni video trovi i link per approfondire, ci sono i miei corsi proprio specifici che ti guidano proprio passo passo se non sai fare niente, non sai come si deposita un brano, come si distribuisce, come si promuove, come si trovano le date, come si finisce in radio. Vai nella descrizione di ogni mio video, c'è il musicista consapevole, il primo corso se parti da zero, musicista pazzesco per sfruttare tutte le piattaforme di advertising, Spotify ads, YouTube ads, Google ads, Facebook ads, per proprio farti trovare da giusto pubblico, ok? E poi vincere su Spotify, mi raccomando, Spotify non lo sottovalutare, c'è il mio corso specifico proprio che riguarda le playlist algoritmiche, come attivarle, come entrare nelle playlist. Nella descrizione trovi tutti gli approfondimenti, nella descrizione di ogni mio video, mi raccomando ci sono anche i miei pacchetti di promozione se vuoi che ti aiuto io personalmente, le consulenze. Dai un'occhiata, oggi vediamo come aggiornare una versione depositata di un nostro brano su Soundriff ogni giorno, cioè no non ogni giorno, però spesso mi capita che ricevo questa domanda, ma posso depositare una prima versione magari solo chitarra e voce di un brano e poi mettere quella definitiva? Ma intanto mi voglio tutelare perché sto cercando, sto mandando in giro le canzoni, lo posso fare con Soundriff? Si può aggiornare, però già fare il deposito e poi cambiare soltanto l'MP3? Ragazzi, certo che si può fare, è semplicissimo. Per chi sta pensando di passare a Soundriff o vuole iscriversi a Soundriff, non è SIA e pensa che Soundriff sia la soluzione, ho fatto un sacco di tutorial. Anche andatevi a guardare il mio tutorial su come si deposita un brano, se è la prima volta diciamo e state pensando di passare a Soundriff e volete sapere come si deposita un brano, come funziona nel mio tutorial. Magari ve lo faccio sbucare qui nelle schede, praticamente li faccio vedere tutto passo passo, quindi andate a vedere. Oggi vediamo l'operazione di aggiornamento molto semplice, mettiamo il caso che io abbia depositato del mio brano Canzone d'amore contro il consumismo, abbia depositato prima una versione chitarra e voce e adesso ho la versione ufficiale. La voglio inserire e depositare su Soundriff, sul mio account, voglio aggiornare il tutto. È molto semplice, voi andate nel vostro account Soundriff, vi loggate, andate nella sezione musica, ripeto ragazzi, se non sapete come si fa a depositare un brano guardatevi il mio tutorial Soundriff Deposito 2021, lo trovate qui su YouTube, l'ho messo anche nelle schede di questo video. Se state guardando questo video da YouTube, se lo state guardando da Facebook, andate subito su YouTube a iscrivervi. Ok? A YouTube, attivate la campanella e iscrivetevi a questo canale e supportate la mia attività. Allora, quindi guardate il tutorial per sapere come depositare. Per aggiornare la versione, è semplicissimo, devo andare sulla mia canzone che voglio aggiornare, poi qui nei tre pallini, clicco su versioni nel menu che mi si apre. Et voilà! Questa è la versione attuale, andando qui in alto a destra, cioè aggiungi versioni e posso, vedete, selezionare il file dal mio computer e caricarlo e aggiungere la versione. Vedete, cliccando qui su carica, ok? Posso cambiare praticamente la versione sostituendola con quella nuova, oppure posso aggiungere caricando un altro file.